C'è un po' di confusione perché sei organizzazioni sindacali dell'AMAT Palermo, quindi Filti Cigel, Filti Cisle, Will Transport, Faisa Cisal, Cobas Transport e Orsa Transport stanno rivendicando il rinnovo del contratto aziendale, fermo ormai da una quindicina d'anni. Purtroppo abbiamo incontrato delle difficoltà sia dal punto di vista dell'azienda inizialmente che recentemente però abbiamo in qualche maniera concordato malgrado la presidenza purtroppo abbia fatto finta di non conoscere quello che la direzione generale ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali e sia da parte del controllo analogo, cosa che sappiamo che dovrebbe autorizzare qualunque cosa venga sottoscritta con le organizzazioni sindacali, benché però il controllo analogo avrebbe dovuto informarsi delle appendici che chiede del contratto dell'ipotesi d'accordo sottoscritta e che invece non ha chiesto rigettando di fatto istintivamente senza aver preventivamente chiesto al presidente dell'azienda se ci fossero una lettera di accompagnamento che spiegasse la spesa che l'azienda intende sostenere e che soprattutto spesa che non graverà assolutamente sull'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale che ha dato a noi la possibilità di agire in maniera autonoma visto che le risorse le dobbiamo in maniera autonoma ricavare noi, ci aveva dato la possibilità di poter mettere in atto questo contratto di servizio. Il tutto è stato effettuato ma come sappiamo è stato rigettato il giorno 13. Il piano di regolibrio dell'azienda da una direttiva comunale prevede il ritorno dei servizi in perdita, servizi in perdita si parla di bike sharing, car sharing, segnaletica, rimozione ma qualcosa di più importante che noi rivendichiamo è un servizio in perdita che ha creato numerosi problemi alle casse aziendali e appunto il tram che ci è stato affidato nel 2015 senza avere delle somme. Quindi da questo ha portato un disavanzo di utili e ha creato questi problemi, problemi che si continuano ancora ad aggravarsi in quanto finalmente dall'anno scorso ci viene riconosciuto il tram ma non ai costi standard che sono di circa 13 euro a chilometro ma ci viene pagato come il prezzo del gommato a 5 euro 80 a chilometro. Per questo non è più possibile andare avanti così quindi il comune deve innanzitutto fare da subito un contratto di servizio che era scaduto e si doveva fare entro il 31 marzo ma l'hanno rimandato al 31 dicembre e questo porterà sicuramente ancora gravi problemi a fine anno per le casse di Amati.